Buonasera da FamilyTG, approfondimento a cura di Federanziani. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha messo in chiaro quali saranno le linee guida per i prossimi anni, a prescindere dai conti economici. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, confermato nel nuovo governo guidato da Matteo Renzi, ha ribadito le sue linee guida e il lavoro da portare avanti nei prossimi anni. Mettendo in chiaro da subito alcune cose, rivolgendosi al nuovo Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Il nuovo patto per la salute è la vera priorità per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. In questo quadro il Ministro inserisce anche il piano di prevenzione nazionale, la riconversione dei piccoli ospedali, la gestione efficiente dei posti letto, le liste di attesa. Questioni non più rimandabili, dopo aver pensato in questi anni soprattutto a cercare di risolvere l'emergenza finanziaria. Ora, ha spiegato il Ministro, bisogna ripensare alla qualità della sanità e soprattutto al paziente e a quella che sarà la nostra società nei prossimi 20-30 anni. Una società con più persone anziane, che avrà bisogno quindi di un diverso modo di concepire l'assistenza sanitaria. Fermare i tagli alla sanità, una priorità che il Ministro Lorenzin ha voluto ribadire in attesa di incontrarsi con il nuovo Ministro Padoan. La proposta del Ministro è quella di tenere bloccato il budget per tre anni, cercando di quantificare i risparmi, con proposte concrete, come la chiusura dei piccoli ospedali. Ci dovranno essere sempre meno ospedali, ha detto il Ministro Lorenzin, e quelli che resteranno dovranno essere sicuri e in grado di prendere in carico il paziente in situazioni di rischio e difficoltà. I risultati della campagna di prevenzione delle fratture dovute alla fragilità ossea nelle donne over 50. Lo scorso ottobre è stato il mese della prevenzione delle fratture da fragilità ossea. L'iniziativa era rivolta a tutte le donne over 50 nell'ambito del progetto informativo Stop le fratture e ha reso disponibili visite specialistiche gratuite per le donne con pregressa a frattura di femore o con rischio elevato di nuove fratture. I risultati ottenuti al termine dell'iniziativa hanno evidenziato la necessità di dover prevenire il rischio di nuove fratture ancora troppo sottovalutato nelle donne italiane. Dalla ricostruzione della storia clinica di 125 pazienti con fratture con età media di 61 anni, è emerso che l'82% non aveva effettuato l'esame MOC per diagnosticare la presenza di osteoporosi, pur sapendo che essa è particolarmente frequente nelle donne con più di 50 anni e che soltanto il 34,4% era stato valutato con una radiografia della colonna vertebrale. Questo dato tra l'altro è quasi coincidente con quello dei pazienti che avevano già subito una frattura non traumatica, ossia per fragilità ossea. In altre parole dai dati, sembra emergere che la radiografia alla colonna vertebrale viene effettuata quasi esclusivamente a chi ha già subito una frattura. Quasi tutte le pazienti che avevano partecipato a questa campagna erano state sottoposte ad un esame specialistico più approfondito solo dopo aver riportato una frattura. Con l'avanzare dell'età il ritardo diagnostico può comportare disabilità anche gravi con notevole disagio per la paziente e per chi fornisce assistenza. È quindi necessario che vengano eseguiti accertamenti mirati per diagnosticare in tempo utile la presenza di fragilità ossea e scongiurare il pericolo di ulteriori fratture. Un dato ancora più rilevante in quanto riferito a pazienti che avevano ricevuto una diagnosi di osteoporosi primitiva è che soltanto il 44% viene trattato adeguatamente con farmaci specifici. Altro dato significativo è che la metà dei pazienti soffre di patologie associate. Queste patologie come l'ipertensione o l'ipertiroidismo sono percepite dalle pazienti come più importanti che richiedono un controllo costante. Questo atteggiamento va di scapito dell'osteoporosi che evolve asintomatica per un periodo più o meno lungo fino a diventare critica manifestandosi attraverso le sue complicanze, ossia con le fratture. Come cambiano le aspettative dei pazienti affetti da tumore metastatico del conorretto con l'introduzione del test RAS e qual è la situazione nella regione Lombardia? Conoscere lo stato di bassa, cioè se il gene è mutato o meno nel singolo paziente permette di capire che si può giovare di un trattamento con farmaci biologici anti-GFR ed in particolare del loro utilizzo precoce in associazione alla chemioterapia classica. Inoltre conoscere questo dato permette di risparmiare effetti collaterali ed anche costi economici rilevanti in pazienti che non si gioverebbero del trattamento con questi farmaci in quanto portatori della mutazione del gene RAS. Conoscere lo stato di RAS è modernamente l'elemento più importante per stabilire la miglior strategia e la sequenza terapeutica per controllare e cronicizzare la malattia metastatica. Il test deve essere effettuato all'inizio del trattamento. In Lombardia esiste una buona rete che gestisce l'esecuzione del test, vari servizi di anatomia patologica e biologia molecolare e tutti sono in grado di fornire risposte di alta qualità in tempi ragionevoli che vengono oggi identificati nell'ambito di un paio di settimane. Ulcere, ferite e ricostruzione dei tessuti, il congresso organizzato da Corte. Le ulcere da decubito rappresentano una delle principali malattie croniche nei pazienti anziani, con molte ripercussioni sui costi e l'impegno dei familiari. Non parliamo soltanto di ulcere, ma anche di piaghe e ferite. Di questi temi si discuterà al V Congresso Nazionale Corte, la Conferenza Italiana per lo studio e la ricerca sulle ulcere, piaghe, ferite e riparazione tessutale, che si è aperto oggi a Roma e che durerà fino all'8 marzo. Secondo i dati del Centro Studi di Federanziani, SIC Sanità in Cifre, gli anziani con ulcere da decubito spendono per le medicazioni fino a 250 euro al mese. Essendo delle patologie croniche, tutto questo si ripercuote anche sui familiari. Si stima infatti che si arrivano a perdere circa quasi 500 giornate di lavoro per fare assistenza. In generale circa il 4% dei costi totali del sistema sanitario riguardano proprio le ferite e coinvolge circa 2 milioni di persone, destinate ad aumentare nei prossimi anni a causa dell'aumento dell'età media della popolazione. Sono patologie che consideriamo croniche perché purtroppo non interveniamo spesso in maniera corretta. Quindi ci accontentiamo di un risultato parziale, adoperiamo delle medicazioni tradizionali, la pulizia della ferita, il cerotto, l'attenzione all'infezione della piaga. Però non risolviamo in maniera definitiva il problema. Soprattutto per gli anziani è importante che il paziente capisca che venga accompagnato, quindi che sia formato anche il personale di assistenza, non solamente gli infermieri che svolgono nell'assistenza domiciliare direi il 99% del lavoro, ma anche coloro che hanno a cura, che hanno in carico la persona malata, quindi il personale delle residenze, un po' tutti quelli che ruotano intorno a queste problematiche. Grazie per averci seguito, buona serata!